Ma ciao bambini, benvenuti su Fanta Storia, io sono Susi, la vostra amica maestra ed oggi voglio costruire con voi un vero e proprio lancio aerei che dite, volete venire a palo con me? Su dai, andiamo! Per questa attività ci serviranno un cartoncino, un foglio di carta, un paio di forbici e un elastico Su via, iniziamo! Pieghiamo a metà Adesso pieghiamo ancora a metà, sia da un lato che dall'altro Pieghiamo ancora a metà Stessa cosa dall'altro lato Con le forbici facciamo un taglietto qui Nella parte chiusa dove non ci sono le alette, vedete? Inseriamo l'elastico Si passa nell'angolo Si allargano le ali Si tira Ed ora andiamo ad occuparci dell'aereo Pieghiamo a metà Apriamo Portiamo gli angoli al centro Ora portiamo questi altri angoli al centro Ci troviamo così E andiamo a girare al contrario Prendiamo l'angolo superiore E lo portiamo all'estremità inferiore In questo modo Ora giriamo e portiamo questi angoli verso il centro Una E anche quest'angolo Ed eccoci qui Giriamo E pieghiamo L'angolo superiore Vedete? Qui dove ci sono i due spigoli Fatto Quindi da così A così Da così A così Giriamo E occupiamoci delle alette Vedete questi due angoli Queste due sacche? Dobbiamo spingere La tasca verso l'esterno Quindi allarghiamo Spingiamo verso l'esterno Stessa cosa di qua Allarghiamo E Spingiamo verso l'esterno Verso l'esterno Ci troviamo in questa situazione Adesso andiamo a piegare a metà E andiamo a piegare ancora le alette Una Due Abbassiamo le alette Queste qui piccoline Ce le portiamo verso l'interno Il nostro è il punto Vediamo se la piattaforma funziona 3 2 1 via 3 2 1 Ti è piaciuto questo video? Fammelo sapere giù nei commenti Eccolo qui Fammi sapere anche se sei riuscito a farlo partire Allora noi adesso ci salutiamo Ma ci rivedremo per tante altre bellissime storie e attività Ciao bambini Ciao bambini